A partire dal 16 dicembre arriveranno grandi novità per i collegamenti sulle tratte tra Orvieto e Terni e tra Orte e Orvieto con nuovi treni e la sostanziale riconferma dei servizi attualmente forniti agli utenti. La buona notizia è stata data dall'assessore regionale Silvano Rometti che ha sottolineato come la nuova offerta va incontro alle esigenze dei pendolari umbri e testimonia l'impegno della regione. L'anteregione ricorda inoltre che il programma è una copia leggermente rivisitata di quello vecchio, cambiano solo alcuni orari quindi nessuna paura per quanto concerne le abitudini dei pendolari sempre alle prese con i secondi per non perdere corse e coincidenze. Le variazioni di orari interessano i servizi su Roma e la rinumerazione di quasi tutti i treni delle linee Foligno-Terontola-Roma-Perugia e Roma-Ancona confermata anche per il 2014 la percorrenza sulla linea direttissima Firenze-Orte-Roma. Orvieto e Terni saranno collegate direttamente senza cambio ad Orte. Per gli orari e le informazioni su corse e servizi vecchie e nuovi consultare il sito di Trenitalia. Grazie.